Ciao a tutti, oggi prepareremo i muffin tonno e zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo 0, lievito per torte salate, sale, uova, latte, tonno sott'olio, zucchine tagliate a julienne e scamorza. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina, il lievito, le uova, il latte, il tonno e il sale ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 4. Aggiungere le zucchine la scamorza ed azioniamo il bimbi per un minuto, antiorario, velocità 3. Il composto è pronto, trasferire in pirottini per muffin. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa. I muffin sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servire. Muffin tonno e zucchine. Grazie e alla prossima ricetta. Muffin tonno e zucchine. Grazie a tutti. Muffin tonno e zucchine. Grazie a tutti.